ciao ragazzi io sono Riccardo bentornati nel mio canale YouTube innanzitutto spero che i ventilatori non si sentano dal microfono purtroppo c'è un caldo assurdo e devo tenerli accesi comunque io in questo canale vi ho già fatto conoscere tanti microscopi oggi vi farò conoscere altri due microscopi che mi invia il sito Banggood uno un po più economico quindi indicato per l'utilizzo hobbistico l'altro invece sembra dall'aspetto un po più professionale ha diverse caratteristiche guardate un microscopio da laboratorio quindi tra l'altro si può accessorare ha già degli accessori che lo rendono pochettino più ampio come utilizzo comunque ora lo vedremo e questo da circa 150 euro è quello che secondo me è più indicato all'interno di un laboratorio di un hobbista perché permette di ingrandire di utilizzarlo per componenti elettronici per spezionare ingrandire campi di l'impiego di un microscopio sono infiniti quindi poi ognuno di voi valuterà il motivo per cui acquista un microscopio questo è dotato di lampade che puntano nell'oggetto che dobbiamo ingrandire effettivamente già così è completo con 150 euro si può utilizzare l'altro invece va assemblato a diverse funzioni si può utilizzare con o senza monitor quindi guardando direttamente come fanno i biologi da qua e diversi diverse messe a fuoco regolazione di altezza eccetera quindi come sono due se vi interessa però un video per uno e uno per l'altro modo più approfondito però voi vorrete sapere il prezzo quindi meno di 300 euro questo professionale con codice di sconto e meno di 150 euro questo col display integrato su questo il display va messo a parte ora però cambiano inquadrature vi faccio vedere direttamente i microscopi in funzione vi rendiamo qualcosina solo per renderci conto delle potenzialità iniziamo e allora abbiamo di fronte quindi i nostri microscopi questo è il modello da 150 euro meno di 150 euro con il codice di sconto come vedete ha un display integrato che si monta semplicemente da questa parte quindi si inserisce e abbiamo questo braccetto che ci permette di alzare ed abbassare il microscopio quindi svitando questo pomellino possiamo decidere l'altezza con una buona precisione certo non è una precisione micrometrica però permette di regolare molto bene con una buona precisione dopo di che si stringe e ci permette di avere quindi l'altezza prestabilita come vedete in questo momento traballa un po tutto perché il microscopio va bloccato con questo pomellino e quindi in teoria secondo me dovrebbero esserci nemmeno due uno da questa parte uno da quest'altra perché così si muove non è un problema perché comunque non c'è il rischio che possa cadere come vedete si solleva senza problemi però sarebbe stato meglio se ne fossero stati due qua abbiamo diversi comandi come sempre per scattare le foto scorrere nel menu accendere spegnere eccetera e questo cavetto che vedete serve per portare l'alimentazione dalla base al display perché in realtà va alimentato inserendo il cavo all'interno di questa porta quindi adesso lo collego vi faccio vedere anche l'illuminazione che va regolata da questo pomellino e vediamo come ingrandisce allora ho collegato quindi l'alimentatore questo è il cavetto si inserisce qua dietro e poi da questa base alimentaremo anche il nostro monitor come vedete si sono accesi già dei led ok già sta ingrandendo come vedete adesso è fuori fuoco in realtà dovrei togliere pure questa pellicola ma avendo diversi microscopi e utilizzandone solo uno ovviamente questo andrà di nuovo alla sua confezione non voglio togliere per ora la pellicola comunque vi permetterà di vedere lo stesso bene quello che riesce a fare allora guardate sono riuscito ad ingrandire questo simbolo che sul tasto del telecomando e questo simbolo ve lo faccio vedere anche da qua sarebbe questo quindi molto molto piccolo riesce ad ingrandirlo riusciamo a vedere tutto per bene nel caso in cui in cui non dovessimo riuscire a vedere però possiamo utilizzare le lampade quindi l'illuminazione regolandola in questo modo tra l'altro anche un'autoregolazione dell'esposizione quindi nel caso in cui dovesse venire troppo abbagliato come avete visto si regola in automatico e qua riusciamo a vedere pure un pelino di polvere che è sul telecomando quindi sul tastino riesce a ingrandire molto bene però per farvi capire meglio come riesce ad ingrandire è meglio utilizzare una banconota come vedete sulla banconota sapete ci sono tantissime piccole caratteristiche tanti dettagli che ad occhio nudo non si notano noi vediamo solamente una combinazione di colori però in realtà ci sono tante piccole cose quindi guardiamo cosa c'è all'interno di questa scritta dovrebbero essere delle righine ma possiamo vedere con precisione effettivamente cosa troviamo al suo interno quindi anche questo caso avendo un'altezza differente devo mettere a fuoco e come vedete riusciamo a vedere le righe che abbiamo nella banconota all'interno del numero 50 ci sono tanti altri piccoli simboli questo serve per l'anti falsificazione questa è l'italia abbiamo pure lampedusa che non avevo mai visto questo è simbolo che cambia colore anche qua abbiamo tantissimi piccoli dettagli stiamo guardando i dettagli minuscoli invisibili che in realtà ad occhio nudo ragazzi io non avevo mai visto questo è il capitello di questa colonna quindi piccolissimo è ingrandito ovviamente però questa era solamente una prova ma guardiamo i componenti elettronici quindi quello per cui in realtà è indicato questo tipo di prodotto come vedete differente altezza bisogna regolare la messa a fuoco e questo è molto rapido effettivamente riusciamo a vedere benissimo pure in questo caso mettiamo fuoco da questa parte che vedete come la messa a fuoco permette di vedere spostandoci in altezza e quindi di valutare tutta la superficie ora diamo un'occhiata pure al menu allora in questo modo potremmo scattare una fotografia però come vedete non ho inserito la memory card ma l'avrebbe salvata nella memoria ci avrebbe poi permesso di rivederla tramite questi tastini possiamo zoomare ulteriormente quindi in grandina ovviamente in modo digitale questo è il tasto menu che ci permette di regolare alcune impostazioni bilanciamento del bianco la definizione dell'immagine l'esposizione la risoluzione eccetera eccetera anche la data e l'ora ed è possibile impostare la lingua come vedete io l'ho impostata in italiano ma vi arriva comunque in lingua straniera da questa parte in basso sotto al monitor abbiamo quindi pure l'uscita hdmi per poter duplicare il monitor in un altro schermo è un collegamento anche usb di tipo c per poterlo alimentare infatti abbiamo il simbolo del fulmine non serve per il trasferimento dei dati a quanto pare però riusciamo ad alimentarlo tramite questa presa e questo è il microscopio più piccolo quello da 150 euro che vi permette di utilizzarlo per un utilizzo normale all'interno di laboratorio senza pretendere chissà che cosa passiamo al fratello più grande prima di iniziare voglio farvi vedere che però arriva tutto all'interno di una scatola accompagnato da una marea di accessori è possibile utilizzarlo con un braccio extra quindi posizionato in questo modo che poi si collega a quest'altro tipo di collegamento che ci dà la possibilità di orientarlo quindi dare inclinazioni differenti eccetera insomma è molto ricco effettivamente per quanto riguarda gli accessori sono diverse lenti che adesso vi farò vedere anche in questo caso abbiamo diversi alimentatori in realtà funziona anche senza gli alimentatori che vedete servono per alimentare questo dispositivo che serve a trasmettere dati ad un monitor e quest'altro alimentatore serve per questa ring light miniatura che illumina la zona evitando di avere ombre e non ci richiede nessuna regolazione se non la potenza in base alle nostre esigenze quindi anche questo caso collego i vari alimentatori e ve lo faccio vedere quindi accendiamo l'illuminazione abbiamo detto che c'è questa ring light quindi l'accendiamo in questo modo come vedete anche in questo caso l'esposizione si regola immediatamente quindi se io la basso si riattiva in automatico però forse è meglio spegnere queste luci iniziamo di nuovo con la banconota quindi mettiamo 50 euro qua sotto è ovviamente in questo caso la definizione è molto molto migliore rispetto a quella di poco fa quindi tutte le linee che poco fa vedevamo ma non vedevamo così definite anche se in realtà io ad occhio nudo vedo molto meglio comunque guardate riusciamo a vedere perfettamente anche le scritte che abbiamo all'interno di questa stella e possiamo regolare la messa a fuoco molto rapidamente tramite queste rotelline laterali guardate quanto sia rapido quanto sia veloce riusciamo anche a regolare ovviamente l'altezza di tutto il microscopio tramite questo pomellone laterale una a destra ed una a sinistra quindi in base alla quale altezza ci troviamo riusciamo a mettere a fuoco molto velocemente guardate avete mai visto quello che c'è all'interno di questa stella della banconota davvero impressionante considerate che la mancanza di messa a fuoco problemi di esposizione eccetera dipendono da come sto riprendendo posso assicurarvi che per adesso io sto vedendo tutto perfettamente a specchio nitidissimo e limpidissimo spostiamoci guardate il capitello e in questo caso si vede benissimo però mi dispiace che non stiate vedendo effettivamente come lo vedo io quindi cerco di posizionarlo ecco forse così si vede un po meglio eppure ha rivolto meglio verso l'obiettivo quindi continuiamo a spostare e guardate ragazzi è davvero straordinario se quello di prima mi era piaciuto questo mi sta lasciando senza parole e quasi che abbiamo una regolazione micrometrica possiamo vedere per esempio che all'interno di questa stella ci sono questi intrecci di linee guardate quanto sia dettagliato e non avevo mai visto una banconota in questo modo e questo è il numero 50 che cambiante e riusciamo a vedere tutti i vari dettagli quindi davvero interessante bellissimo guardate poco fa non si vedeva questo volto adesso invece riusciamo a vederlo andiamo in italia è anche qua una definizione incredibile almeno per me che non ho mai utilizzato un microscopio di questo tipo semi professionale perché sicuramente ci sono microscopi personali di qualità superiore però io riesco a vedere meglio ragazzi voi riuscite a vedere bene ma non riuscite a vedere come sto vedendo io non c'è assolutamente paragone allora proviamo a mettere questo componente elettronico quindi togliamo la banconota e guardiamo anche in questo caso i componenti elettronici ovviamente non c'è paragone rispetto a quello di prima riusciamo a vedere molto 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 meglio tutto in maniera più nitida più limpida anche in questo caso riusciamo a focheggiare per riuscire a mettere a fuoco nel punto in cui ci interessa e quindi riusciamo a valutare realizzare i nostri lavori eccetera nel caso in cui però l'altezza sia poca abbiamo bisogno di vedere meglio allora possiamo anche sollevarlo e avere quindi un'altezza maggiore sia in questo modo quindi come vedete in pochissimi secondi sono riuscito a regolare l'altezza anche in questo caso posso mettere a fuoco immediatamente però se voglio svitando un pomellino nella parte posteriore posso sollevarlo e quindi aumentare ulteriormente l'altezza guardate quanto sia scivoloso quanto scorra bene quindi avendo un'altezza adesso di circa 20 centimetri anche in questo caso metto a fuoco senza spostare il microscopio come vedete sono riuscito a mettere a fuoco velocemente e riesco a vedere tutto benissimo in cosa abbiamo una differenza di altezza di pochi millimetri quindi questi altri componenti riesco a metterli a fuoco in questo modo e posso continuare a lavorare senza nessun problema ovviamente è possibile vedere anche da qua dentro quindi adesso stacco il telefono dal supporto e vi faccio vedere da qua dentro se mi riesce anche se la messa a fuoco del telefono non aiuta ok ora sono riuscito a mettere a fuoco quindi questo è guardando da qua dentro ne abbiamo uno da questa parte e uno dall'altra parte ok guardate quindi se utilizzato per lavoro si riesce a vedere benissimo guardiamo anche questa ring light dal basso come vedete con questo pomellino si riesce a regolare luminosità fino a spegnerla ma se vogliamo spegnerla del tutto basta premere il tastino da questa parte e si spegne ora però approfittiamo del fatto che l'immagine non sia a fuoco per farvi vedere il menu quindi il menu non delle monitor ma il menu del componente che abbiamo qua sopra perché qua abbiamo dei tastini possiamo premerli e quindi dare dei comandi mettiamo in questo modo così spero riusciate a vedere allora premendo il tastino verso destra si apre un menu simile a quello di poco fa l'unica cosa che non mi piace che la parte evidenziata in verde come lo sfondo e bianco non si riesce a leggere bene però sappiamo qual è la voce che andremo a scegliere quindi in questo caso premendo con il tastino andremo sul colore e poi darendo dando ok con il tastino centrale abbiamo tutte le varie informazioni quindi bianco e nero effetto seppia oppure possiamo anche invertire colori lo stesso per quanto riguarda la nitidezza le dimensioni l'esposizione hdr eccetera eccetera pure in questo caso ovviamente è possibile cambiare la lingua e nel caso in cui inseriamo una memory card che va messa qua sopra possiamo anche formattarla quindi qua abbiamo come vedete questi comandi e possiamo gestire il menu queste led di stato che ci avvisa che è stata collegata all'alimentazione 12 volte per quanto riguarda invece l'utilizzo come vi dicevo con il braccio extra diciamo che solitamente è meglio utilizzarlo in questo modo se si deve utilizzare in modo statico quindi posizionare qualcosa sotto e basta però volendo possiamo utilizzare appunto il braccio snodato quindi rimuoviamo lo ok si utilizza questo si mette qua così poi ovviamente in base alle vostre esigenze questo potete posizionarlo così come lo state vedendo adesso oppure potete anche girarlo nel senso opposto bloccate sempre questo dopodiché posizionate il microscopio da questa parte e questo vi consentirà togliendo prima però questo tappo come sentite è tutto in metallo quindi tutto solido e stabile e quindi in questo modo abbiamo la possibilità di utilizzarlo con diverse inclinazioni non solo per ciò che è poggiato sul nostro ripiano ma possiamo sollevarlo alzarla abbassarlo inclinarlo a destra e a sinistra e anche farlo scorrere quindi anche più esternamente riusciamo quindi a utilizzarlo come vogliamo in base a quello che stiamo facendo cioè dobbiamo realizzare eccetera così riusciamo sicuramente anche a utilizzarlo meglio per quanto riguarda l'utilizzo con gli oculari che tra l'altro hanno anche una regolazione la messa a fuoco che ci serve per poter mettere a fuoco guardando da qua la messa a fuoco avremo però per quanto riguarda la ripresa non varierà quindi si utilizza come classico microscopio messi in questo modo per guardare l'oggetto e analizzarlo come vi dicevo arriva tutto ben imballato quindi con del polistirolo e troviamo all'interno anche questi componenti ci sono le lenti una è quella già montata poi ne abbiamo un'altra che ha un ingrandimento differente a quella che è montata è 0 5 per questa 2 per quindi ingrandisce ancora di più poi abbiamo questi qua sono i contenitori dei due oculari che si tolgono semplicemente in questo modo abbiamo anche una grossa chiave brugola che serve per fissare l'alberino su cui è montato tutto il supporto e diversi tappi ovviamente perché tutto viene spedito imballato per bene con tutte queste spugnette e ogni parte ogni componente ha il suo tappo quindi arriva tutto perfettamente imballato e c'è anche il manuale di istruzioni una guida rapida più che altro di ciò che riguarda la parte elettronica ma si può utilizzare come vi ho detto anche semplicemente guardando degli oculari e questo mini cd che però non l'ho nemmeno aperto perché ci saranno driver o qualche altra cosa qualche guida e tra l'altro non tutti i computer ultimamente hanno il lettore del cd quindi avrebbero fatto meglio a mettere una memory card e questo quindi è tutto quello che riguarda questo micro questi due microscopi una destra e una sinistra questo più economico per poter fare dei lavoretti nel laboratorio e questo invece è un microscopio più completo come avete visto che ci dà un'ottima definizione che ci dà diverse regolazioni rapidità nella messa a fuoco rapidità in tutto e serve quindi per poter essere utilizzato in maniera più professionale e quindi ragazzi se vi serve un microscopio vi serve per un laboratorio quindi per fare degli ingrandimenti che non richiedano chissà quale definizione quindi poter capire se un componente integro se una saldatura è stata realizzata bene o semplicemente perché volete osservare da vicino il mondo quindi guardare piccole cose eccetera anche questo può andare bene questo lo vedo più per un laboratorio che deve fare delle analisi più approfondite di qualcosa o che abbia bisogno davvero di vedere in modo molto molto nitido perché anche se gli altri microscopi che vi ho fatto vedere effettivamente avevano una buona lente ingrandivano bene riuscivano comunque a darci dei bei risultati a questo livello non c'erano arrivato quindi sicuramente questo è un prodotto superiore agli altri il costo di questo di listino è superiore a 300 euro circa 350 euro ma io col codice di sconto volerò pagare ancora di meno o meno di 300 euro e questo meno di 150 euro quindi se vi serve andare a dare un'occhiata se pensate che possiate utilizzarli insomma eventualmente utilizzate il codice di sconto non vi ho fatto vedere telecomandi perché fanno quello che si farebbe con i tastini quindi avremmo perso solo tempo detto questo ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ma prima iscrivetevi al canale mettete mi piace commentate per farmi sapere cosa ve ne sembra di questi prodotti cliccate sulla campanella per attivare notifiche ci vediamo a tutti i prossimi video ciao da riccardo ea presto